Gentile pubblico del Cinecirco alla strada, facciamo i conti con un film molto impegnato da un punto di vista sociale che ricorda un po' quello che ci ha raccontato che è l'Occis la settimana precedente Centodomeniche è diretto e interpretato da Antonio Albanese è un attore che ha iniziato la sua carriera solamente dopo aver fatto l'operaio rimasto molto legato a quell'ambiente, rimasto molto legato a quelle tematiche è girato nei suoi ambienti dove è cresciuto quando era piccolo tocca delle tematiche che lo riguardano da vicino lo lascio scoprire e sicuramente vi sorprenderà poi ne parliamo al termine